Un'interrogazione scritta al Ministero della Giustizia per conoscere eventuali iniziative ispettive sull'operato della Procura di Brindisi e del Pubblico Ministero Raffaele Casto, titolare dell'indagine che nell'ottobre dello scorso anno portò all'arresto dei cinque ragazzi francavillesi trovati in possesso di armi da guerra, poi liberati solo qualche settimana fa per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare. La pattuglia parlamentare dei radicali in forza al Partito Democratico composta dagli onorevoli Maurizio Turco, Marco Beltrandi, Rita Bernardini, Maria Antonietta, Farina Coscioni, Matteo Meccacci ed Elisabetta Zamparutti scrive al Ministro Paola Severino riportando a galla l'ultimo atto in ordine di tempo dell'operazione Terminator ovvero la scacerazione di Gianluca della Corte di 26 anni, Vitantonio Spirito di 25, Maurizio Parisi 23 anni e i 24 anni Giovanni Passiante e Giovannino Resta tutti di Francavilla Fontana. I cinque furono arrestati all'alba del 25 ottobre 2011 con l'accusa a vario titolo di porto, trasporto, detenzione e traffico illegale di armi comuni e da guerra clandestine, ricettazione ed esplosioni pericolose. Ad effettuare gli arresti su disposizione del PM Raffaele Casto i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Francavilla che nell'occasione sequestrano anche un nutrito e micidiale arsenale composto da un fucile d'assalto, una carabina da caccia e un'artigianale lupara ricavata da una doppietta Bernardelli calibro 12. A corredo del tutto anche 49 cartucce. L'operazione Terminator, presevita dalle indagini atte a scoprire le identità degli assassini dell'imprenditore francavillese Vincenzo della Corte, freddato a colpi di pallettoni a San Michele Salentino l'8 ottobre 2010 e del 18enne Francesco Ligorio, passeggero dell'obiettivo Nicola Canovari, ma vittima incolpevole dell'agguato in superstrada dell'11 novembre dello stesso anno e cinque settimane più tardi di Fabio Parisi, freddato la mattina del 22 dicembre nella centralissima via Regina Elena. La portata dell'operazione quindi fu sicuramente notevole, tanto da rendere quantomeno anomala la scarcerazione dei giovani dopo 365 giorni per una quanto mai banale decorrenza dei termini massimi di carcerazione. Da qui l'iniziativa parlamentare dei radicali, premesso che da notizie di stampa si apprende che non avendo il PM Casso esercitato entro 12 mesi l'azione penale, lo stesso ha chiesto la sostituzione del carcere con l'obbligo di dimora. I sei parlamentari chiedono al ministro se sia a conoscenza dei fatti narrati e se intende assumere iniziative ispettive presso i citati uffici giudiziari ai fini dell'esercizio dei poteri di competenza.